e cosa stavo pensando mi piacerebbe mettermi in casa una bella tv facciate quelle tv bianche belle io vorrei videoregistratore ciao bello dammi la tv dammi la tv dammi quella cazzo di tv sto andando a orchestrazione ci sono vent'anni ci sono un sacco di artisti c'è anche video qualche estrazione ci vediamo ciao ah dimenticavo salutami Robby ciao Robby chi? Robby muomo ciao 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 Grazie a tutti.